Centro di ricerca Metal Addictive, un centro di competenza per l'industria 4.0 e la fabbrica connessa. Le nuove tecnologie come il cladding, nel settore tradizionalissimo della metalmeccanica. Una rete di partner che danno respiro internazionale al centro, HPE Coxa, Accenture, TMG Mori. La possibilità di sperimentare prodotti e tecnologie sul campo, innovando i metodi di fabbrica e di mettere a frutto le competenze di tutta la filiera. 20 giovani ingegneri coinvolti nel progetto, con la Regione Emilia Romagna a supporto. HPE Coxa, Modena. Grazie a tutti.